Amici di Poker Factor, oggi è il 12 dicembre 2009 e siamo a Civitavecchia e ci stiamo per imbarcare per partecipare all'evento più esclusivo e mondano dell'anno la People's Poker Cruise, la crociera di poker organizzata dal People's Poker Network. A tra poco, ciao! Amici di Poker Factor, ci siamo. L'avventura della People's Poker Cruise sta per cominciare. Siamo imbarcati e tra poco ci sarà lo Shuffle Up and Deal. Riusciamo a vedere che all'ingresso ci sono due hostess che con una bollo stanno facendo pescare i posti ai giocatori che stanno entrando in sala. Adesso faremo sembrare un po' le tensioni e poi andremo a chiedere a qualcuno di questi giocatori chiedendo anche loro quali sono le loro aspirazioni per questo torneo. Salve, buonasera a tutti. Come va? Tutto bene? Noi tutto bene, tu come stai? Tutto a posto, tutto a posto. Un po' stanco perché la nave ha fatto un po' di ritardo. Stanotte ho dormito poco, però siamo qui. Sei bello tonico, bello in forma? Sempre, sempre, sempre. Per giocare sempre. Aspetta, c'è qualcuno ai tuoi spalle? Il mio amico pro sta s'appengo, scusami, ti devo sistemare perché ti dà... Ah, hai ragione, hai ragione. Aspetta, ma la levo, la levo. Grazie, ok, vado, vado. Grazie Giangi. Adesso Giangi si è montato la testa, ti devi fare il revito, devi fare anche il consulente d'immagine. Io ho saputo una cosa, che Giangi in questa crociera porterà solo le borse avanti e dietro e mi hanno detto... Assolutamente, facchino tu cura. Eh, ho capito, allora già avevo visto questa cosa. Non sopprero assoluto. Eh, visto. Che noia che è. Inizia a dare anche un po' un fazzio, però non fa niente, dobbiamo sopportarla. Senti, ma tu semmai se ti... dai un calcino... Me la vedo io, chiamami a me, me la vedo io. Ho capito. Io comunque volevo ricordare una cosa, mi stavo impappinando, che Salvatore tu sei il componente del team pro di Peoples. Peoples, sì, sì. Sono il componente e oggi, diciamo, in questo evento siamo solo io e Germano, perché la nostra amica Veronica non c'è, non è potuta venire, però è come se ci fosse anche lei. Giochiamo anche per lei. Assolutamente, tu devi sapere che c'è Giangi dietro che ti faccia le facce, non ha parole. Come al solito, come al solito, sta combinando i massimi, va bene. Comunque, se ti dà fastidio, chiamami a me che me la vedo io. Grazie, grazie. Senti, ci vediamo dopo. Va benissimo, ciao. Ciao. I livelli sono da 30 minuti, oggi giocheremo 10 livelli, quindi per 5 ore di gioco, con un solo break dopo 5 livelli, quindi a metà. Dopodiché, chi sarà ancora in gioco, tornerà domani alle 2 in questo stesso luogo. A ritorno faremo il tavolo finale. Il tavolo finale, come saprete, è televisivo, è formato da 8 giocatori e verrà ripreso dalle telecamere di Andy Molle, andrà su Italia 1, nel programma Poker Mania, o l'11 o il 18 gennaio. Quindi, per chi uscirà prima, spero, insomma, nessuno, non lo auguro a nessuno, ma per chi uscirà prima dal torneo, parallelamente ci saranno aperti dei tavoli sit and go e cash in quell'area alla mia sinistra. Alla mia destra c'è Sergio e Simone, che sono i due floor men direttori del torneo, quindi per qualsiasi problema potete chiedere a loro, qualsiasi controversia di gioco viene risolta da loro, che vengono chiamati dai dealer, e passo a loro la parola per dare lo shuffle up in deal. In bocca al lupo, a tutti. Ciao. Allora, bene, dealer, tavolo 1, sorteggiamo il bottone, per favore. Posizione 9, bottone in posizione 9, dealer, diamo carte e mettiamo poste fino alla posizione numero 10, in tutti i tavoli. Primo livello, 25-50. In bocca al lupo a tutti, dealer, shuffle up in deal. E il torneo è partito. Siamo con Germano Martucci, il capitano del team pro di People's Poker Network, nonché poker manager di People's Poker, che è alla ricerca del suo tavolo. Ragazzi, qui, ardo arrivare. Tavolo 5, posto 6. L'abbiamo trovato, siamo pronti. Senti, in bacio di regali, 5 minuti? Come no, anche 10. Andiamo. Amici di Poker Factor, amici di People's Poker Network, ce l'abbiamo fatta. Il torneo è partito, abbiamo anche scoperto il sit e il tavolo del capitano del team pro di People's Poker, Germano Martucci, che è qui con noi, che adesso ci racconterà qualcosa. Germano, più di qualcosa ci devi raccontare. Questo evento è una creazione... è un evento? Vi racconto tutto, non qualcosa. Allora, People's Poker Cruise 2009, una crociera interamente dedicata al poker, dove si svolgeranno un torneo da 1.100 euro di iscrizione, che è appena partito, a cui si sono iscritti più di 100 giocatori, quindi avranno un monte di più di 100.000 euro, che per essere la prima volta, insomma, non è niente male. A ritorno ci saranno anche dei side event di taglio più piccolo e anche dei sit and go, dei tavoli paralleli. Che altro dire? Che altro dire? Innanzitutto che la formula crociera è sicuramente un qualche cosa che permette di unire la passione sportiva a quelle che sono delle dinamiche familiari, perché è comunque una crociera in cui puoi portare anche la tua compagna, noi abbiamo visto anche dei bambini, quindi è un... Difatti è diventata una sorta di vacanza, una bella festa, ci sono 100 giocatori e praticamente 200 accompagnatori, abbiamo riempito tutta la nave, siamo partiti da Civitavecchia, andremo a Barcellona, dove saremo ancorati un giorno, quindi anche con la possibilità di farsi un giro in città e poi torneremo. Insomma, c'è da divertirsi anche per chi non gioca. Ascolta, ma quest'idea nasce come? Quando? Quanto è stato difficile realizzarla? La difficoltà maggiore è stata allestire tutto il salone del torneo, quindi tavoli, monitor, chips, in due ore, perché prima che arrivasse la nave in porto chiaramente non si poteva fare, quindi abbiamo fatto più velocemente possibile. Purtroppo oggi c'è anche il mare mosso, quindi speriamo che le colonne di chips dei giocatori non cadano da una parte o dall'altra del tavolo. Però a parte questo, l'idea è stata quella di organizzare sia un torneo dal vivo, sponsorizzato da Vivos Poker, come dire, target dei nostri tornei di satelite online, ma piuttosto che fare un casino, cosa che fanno ormai praticamente tutti, volevamo una location alternativa originale. La legge permette di giocare a poker adesso solamente o in mezzo al mare, in acque extraterritoriali, oppure all'interno dei casino, per cui noi abbiamo scelto di farlo in mezzo al mare.